Fai il test con me oggi e scopri come sono i tuoi capelli e cosa fare per averli perfetti. Per questo occorre curare alcuni aspetti dei capelli ed è le tue routine quotidiane. Comincia ad andare davanti allo specchio e guarda e tocca i tuoi capelli. Come li trovi? Come li senti? Sono secchi? Setosi? Sono morbidi? E le medie lunghezze come sono? Il tuo colore com'è? Si mantiene a lungo? È opaco? E ora osserva le tue punte. Sono sfibrate? O hanno doppie punte? Sono in perfetto stato? Quando è l'ultima volta che li hai tagliati o spuntati? E adesso prova a ricordare se hai prurito in cute, se si sporcano facilmente, se sudi, se hai vampate. Dai un'occhiata ai prodotti che utilizzi. Li hai scelti tu o te li hanno consigliati? Hai trovato beneficio nell'uso di questi prodotti? Rispondere a tutte queste domande e osservare ti può far capire quanta attenzione hai per i tuoi capelli. Se poi aggiungiamo stress, inquinamento, raggiungiamo il top. E ora rispondi. Sei soddisfatta dei tuoi capelli? Se sì, allora stai attuando i protocolli giusti. Se invece avete risposto dei no, allora correte ai ripari. Perché i capelli sono la cornice del vostro viso. Mi raccomando.